Nuovo colpo di scena nel braccio di ferro tra struttura commissariale e principali operatori della sanità privata Gemelli e Neuromed. Per il Consiglio di Stato le prestazioni ad alta complessità, le terapie salvavita cosiddette di fascia A, quali neurochirurgia, radioterapia e cardiochirurgia, non possono essere sottoposte a budget. Non sono mancate le reazioni alla sentenza. La sentenza del Consiglio di Stato ha detto no al taglio dei budget e ha detto sì al diritto alla salute e alla tutela della salute dei cittadini e di quelli più fragili, soprattutto di coloro che sono malati oncologici, malati neurologici, malati cardiologici. Questo stesso principio però di no al taglio dei budget e no al tagli lineari deve essere applicato anche alla sanità pubblica che in questi anni ha visto ridurre i reparti, ridurre gli ospedali, ridurre l'assistenza. Quindi sì agli investimenti nella pubblica amministrazione, sì alle nuove assunzioni, sì all'integrazione funzionale pubblico-privato per garantire servizi pubblici di qualità. Per l'ex presidente Michele Iorio la sentenza del Consiglio di Stato certifica che il fallimento della politica sanitaria dipende dall'inesperienza di chi guida la Regione. Ho tentato, insiste il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, di farlo capire al presidente della Giunta regionale, nonché commissario alla Sanità. Spero che con la sentenza di Palazzo Spada si apra la strada a quello che dovrebbe essere un dovere per un presidente di Regione, pretendere che il tavolo tecnico per la verifica degli investimenti della sanità non consideri quelle somme nel disavanzo sanitario.